Ciao a tutti! Adesso arriva mia figlia! Eccoci qua! Oggi siamo il Marco e la Mirella con i crotevici. Allora, come dice la zia Mirella? Una volta al mese! 10 euro, una volta al mese. Vediamo se mi porta fortuna la zia Mirella. E allora, incominciamo! Tu vuoi fare lo zio Marco o la zia Mirella oggi? Uguale! Chi fa? Mutanda! 39! Parlo io, parlo io! Ok, allora dobbiamo fare la fotocopertina, come dice la zia! Vai, facciamo la fotocopertina! Dobbiamo trovare tre cifre dello stesso importo e poi qua è moltiplicato, quindi moltiplicato per 1, 2, 3, 4, 5. Io ne ho giocato uno da 5 euro e ho vinto 10 euro. Però anziché prendermi 10 euro mi sono preso due biglietti. Altri due biglietti. Allora, io gratto, però qua non possiamo fare 77 le gambe delle donne, perché qua sono le cifre. Ah, ecco. Allora, 50 euro. Eh, ma sono mica male, no? 10 euro. Eh. 15, abbiamo perso, e 50.000. 50.000 per 4 ci sistemavamo, no? Eh, però no. Andiamo avanti. 5.000. Buono. Aggiungiamo... 5.000! Aggiungiamo anche... No, no, aspetta, un'altra 5.000. Dai, 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 dai. Moltiplicato per 2. Wow, buoni sono. Un'altra 5.000 e vincimo 10.000. Dai... No, no, tamburelli. 15. Niente. Niente da fare, ragazzi, niente. Aggiungiamo i due zeri là. Riproviamo. Vai. Che cosa è? 100. 20. Dai, 100 euro. 100, almeno 100. Tamburelli. Per 4, sono 400 euro. Vado. Vai. 20. Niente da fare. Senti, cambia, cambia tamburello perché... E che faccio. Porta sfiga. Vai. Vai. Vediamo questo. Partiamo da qua. Per 2. Per 2. Vediamo. 200. Buoni sono. Anche questo. 200. Vai, vai. Cosa faccio? 15. 5. Vieni. Ma vaffan bagno, va. Niente da fare, ragazzi. Riproviamo. Allora. Per 1. Allora. Per 1. Allora qua vinciamo. Guarda. Allora vinciamo. Vabbè, grazie. Se per 1 è 50.000 euro... E magari. 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 Oh, no. 50. 10. 20. E 3. Niente da fare. E vai. Cagate 10. Niente da fare, ragazzi. 50. 50. 50. 20. 10. Scusa un attimo, che puliamo qua. Sì, che solo quello oggi ci resta. Puliamo. Allora, poi, prossimo. Per 3. O per me? Non lo fare più. Incomincia dai numeri, dopo. Ok. 5. Forse vinciamo i 5. 10. Ma nemmeno. Manco questo. 10. Dai, 30 euro. 5. Vaffan. Poi, signora Mirella, signor Marco, niente da fare. Non siamo fortunati. Però l'altra volta che non ho fatto il video, ho vinto 10 euro. Prima tu ti rendi conto, vabbè. Siamo fortunati. In amore. In amore. In amore. L'amore di mamma. 20. 50. 100. E 50.000. Nientava. Per 1. Per 2. 200. 5. 50.000. E 200. Ma che schifo. Ma che biglietti. Ve l'ho detto, li dovevamo andare a prendere al rifornimento. Quella è una sfiga. Quella, come si chiama? Quella che vende. La tabaccaia. Però, Zio Marco c'ha il cinese. Ah, ok. Allora, perché stavlingono? Sottarocchi. Sottaroccati. Non voglio offendere nessuno, eh. Scherziamo. Si scherzzi, si scherzzi, si scherzzi. 15.000, 5.000, 50.000, 15 euro. Nientava. Perché sei napoletana? Eh, un po' di tutto. No, sono bella siciliana. Poi, l'ultimo. Non lo fare questo. Aspetta, faccio questo, ma devo vedere ormai. Per 10 o è la... Uh, troppo. Allora. Magari è l'ultimo. 20, 100, 15 e 200. Ciao. Per uno. Abbiamo fatto schifo più schifo. Invece una al mese, una ogni due mesi. Ah, una ogni due mesi. Eh sì. No, allora ne facciamo una una volta all'anno. Eh, ogni due mesi. Poi, se non niente, ogni tre mesi. Ah, sempre fino a quando è, allora va bene. Ok. Va bene, un saluto a zio Mirella e a zio Marco. Un saluto a signor Marco e a signor Mirella. Questo video lo dedichiamo a loro. Ciao. Per farci due risate. Ciao, ciao. Ciao.